Segnatevi questa data, 9 dicembre 2018. Ecco, in quel momento gli Houston Rockets erano 11-14 di record e nessuno avrebbe mai pensato che avrebbero potuto risalire la China nella Western Conference. Tre mesi dopo, gli stessi Houston Rockets sono 42-25 di record. Sono la terza forza dell'Ovest a due gare di distanza dai Denver Nuggets e sono assolutamente la principale candidata per contendere ai Golden State Warriors un posto alle prossime NBA Finals. I Rockets da quel famoso 9 dicembre hanno il secondo miglior record della Lega, 31-11, dietro soltanto al 33-9 dei Milwaukee Bucks. Hanno il primo offensive rating e il terzo net rating della Lega. James Harden sta continuando a giocare a livelli di MVP. Il rientro di Clint Capella, Chris Paul e Derek Gordon sono stati determinanti per il 13-4 di record al 2 febbraio e hanno vinto le ultime 9 partite disputate. Tra l'altro hanno vinto anche a Boston, Toronto e contro Philadelphia. Sì, questi Houston Rockets sono davvero la principale candidata a contendere Bay Warriors, lo scettro della Western Conference.